Ciao, sono Bovo Cerea del ristorante da Vittorio di Bergamo. Ed io sono Chico. La nostra storia nasce nel 1966 in un piccolo locale a Bergamo e l'intuizione di papà Vittorio e mamma Bruna è stata quella di portare il pesce a Bergamo. Il passaggio del tempo, questa grande idea, questa grande invenzione di papà e mamma ci ha dato ragione. Pian pianino siamo cresciuti noi figli e pian pianino è cresciuta anche tutta l'attività. Ci siamo trasferiti nel 2005 a Brusa Porto, alla Cantalupa, dove tutti insieme, le cinque famiglie, quindi di tre fratelli e due sorelle, abbiamo ampliato i nostri interessi, diversificato anche i nostri orizzonti. Per fare questo percorso naturalmente è servito tanta passione, tanto impegno, tanta unione da parte nostra ma soprattutto tanta energia. Estra, tutti i giorni, ci permette di accendere i nostri abbattitori, stufe, gas, forni e quant'altro e con i quali ci sentiamo sicuri. Ci piace lavorare con Estra perché condividiamo gli stessi valori. Grazie a tutti.